buongiorno ragazzi 9 aprile per un crimine al giorno parliamo di un crimine particolarmente grave purtroppo uno insomma dei 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 continui crimini che si verificano in medio oriente sostanzialmente da quando la zona è fra virgolette mettiamola così combattuta ecco fra il neonato ai tempi stato di israele e quella che era la comunità araba e parzialmente palestinese 9 aprile 1948 massacro di deir yassin un massacro che è stato perpetrato da due delle principali organizzazioni paramilitari legati al neonato stato di israele perché siamo esattamente insomma questa questa situazione a origine dal dalla fine del 1947 quindi nel periodo tra novembre e il dicembre 1947 e appunto il 9 aprile giorno di questo massacro nel 1948 siamo praticamente esattamente alla nascita la proclamazione dell'indipendenza dello stato di israele il massacro portato a termine da queste due organizzazioni denominate irgun e lei legate al allo stato di israele anche se ovviamente teoricamente non ufficialmente riconosciute anche diciamo dal punto di vista idealistico ecco dalla gana che era l'organizzazione principale dello stato di israele anche dal punto di vista militare e fu aggredito sostanzialmente un piccolo villaggio di 600 abitanti sulla via che bloccava la strada fra israele fra gerusalemme e tel aviv questo attacco che definire sanguinoso è decisamente poco teoricamente aveva l'obiettivo di andare ad alleggerire un pochettino il blocco che era stato fatto dalle forze arabe presenti sul luogo all'indomani della dichiarazione di indipendenza dello stato di israele ovviamente legata in termini temporali esattamente con la fine del mandato inglese 14 maggio 1948 praticamente alla vigilia di tutto ciò lo stato di israele proclamò l'indipendenza e lanciò una serie di controffensive che dovevano portare a liberare i blocchi che erano stati imposti dall'esercito arabo di liberazione sulle strade che principalmente riguardavano le vie di comunicazione fra gerusalemme e tel aviv uno di questi eventi all'interno di quella che si configura come l'operazione nation lanciata dalla gana e da queste forze paramilitari collaterali è stata quella del villaggio di deria sin i gli abitanti del villaggio di deria sin che faceva parte esattamente di quella via di comunicazione ovviamente decisero di resistere all'attacco da parte delle formazioni dell'irgune del lei e il risultato finale fu quello di una cifra di morti su 600 abitanti che vanno dalla cifra pseudo ufficiale dichiarata dall'esercito dello stato israeliano di 107 morti di cui ben 10 pensate armati a una cifra più probabilmente realistica o forse gonfiata anche dallo stesso israele per fare paura le le cose sono state diciamo descritte in maniera molto variabile di 254 morti uccisi sommariamente dopo essere stati rastrellati casa per casa e questi morti ovviamente comprendono anche donne e bambini ufficialmente il villaggio era stato attaccato e fra virgolette liberato dalle forze illegali paramilitari di israele e teoricamente loro dicono raccontano mentre stavano consegnando una settantina di prigionieri arabi alle forze inglesi presenti ma ovviamente totalmente inattive a quel punto parrebbe che alcuni dei combattenti arabi abbiano incominciato a sparare contro questi 120 e più combattenti dell'irgune del lei che erano arrivati a prendere il villaggio ufficialmente questa è la situazione a quel punto quelli dell'irgune delle israeliani si sono sentiti nel dovere di incominciare ad ammazzare indiscriminatamente tutti quelli che avevano davanti fino a una cifra che teoricamente si aggira attorno ai 250 254 ripetiamo di cui ben 10 un ben ovviamente fra virgolette grosse come una casa armati tutta questa situazione era stata cioè venne teoricamente estremamente condannata dalla gana quindi dalla forza centrale israeliana in quel momento ma realisticamente poi non ci fu ovviamente nessun tipo di condanna a quello che avvenne e l'unica preoccupazione reale a quanto pare del del comandante in capo della gana a quel punto in quel momento era quella che insomma si era conoscenza della possibilità di voler prendere il villaggio di der yasin la raccomandazione non è stata ovviamente quella di non uccidere non fare eccetera ma quanto non distruggerlo nella condizione di poterlo tenere perché era necessario per poterci costruire un aeroporto le posizioni dell'ingrandimento insomma del numero delle vittime utile a fini politici sia dal punto di vista teoricamente inglese che arabo permettere come dire in cattiva luce e gli invasori israeliani ma contemporaneamente apparentemente anche dagli stessi israeliani per poter mettere paura alla fazione araba è stata addirittura ridimensionato ulteriormente nonostante il disgusto espresso da ben gurion in quegli anni è stato poi nel 1969 70 c'è stato un ulteriore ridimensionamento che nega non soltanto le violenze che erano probabilmente state portate a termine e testimoniate da alcuni militari inglesi sulle donne ma oltretutto a quanto pare sembrava che i morti non fossero neanche 107 ma che si trattasse poco più di qualche decina di morti ecco questa è la situazione di uno dei tantissimi tantissimi massacri che hanno visto come dire le forze israeliane aggredire deliberatamente dopo essersi installate in maniera illegale in una posizione politica e geopolitica ovviamente protetta dalle altre forze non dobbiamo dimenticare che la ganà ovviamente era stata anche porzione di combattimento nella seconda guerra mondiale al fianco delle truppe inglesi questa era la scheda di oggi praticamente io ve l'ho raccontata a tutta parole 9 aprile 1948 luogo villaggio palestinese di deriassin bisognerebbe in realtà correggere villaggio arabo in generale di deriassin anche per star dietro a tutte quelle che sono le raccomandazioni del politically correct che insomma bisogna dire esattamente le cose però nella realtà dei fatti dei paramilitari sionisti hanno aggredito deliberatamente dei dei civili arabi massacrandoli dalle 11 alle 17 le cose non cambiano mai come non stanno cambiando neanche oggi ufficialmente 107 morti probabilmente oltre 250 rastrellamento casa per casa omicidio deliberato con armi da fuoco violenze carnali non confermate ma supposte perché così veniva raccontato insomma da alcuni membri dell'esercito inglese presenti in loco e questa è la stata la situazione di questo terribile massacro che non ha ovviamente ha avuto nessun seguito legale come non ha nessun seguito legale il comportamento di uno stato che illegale e assassino si sta comportando in questa maniera anche oggi a tal proposito io su queste cose qua non me ne frega niente perché la mia posizione è la mia posizione e quindi no questi sono dati e io ho raccontato dei fatti che fatti sono per quanto concerne per quanto concerne la comunicazione che sta avvenendo nel nostro paese in questo momento volevo permettermi una chiosa perché ho letto giornali e ho guardato telegiornali che parlano in questi giorni di già sei mesi di guerra guerra allora signori la guerra è un evento umano che scoppia fra due fra virgolette chiamiamoni litiganti fra due contendenti fra due posizioni politiche diverse ecco quello che sta accadendo in questo momento in quella zona del mondo non è guerra ma è deliberato massacro di decine di migliaia di persone addirittura colte nel momento in cui cercano di andare a trovare da mangiare a ripararsi donne bambini grandi piccoli tutti quindi è un massacro unilaterale quindi non è una guerra una guerra per quanto un avvenimento umano terrificante non è quello che sta avvenendo ok in medio oriente in questo momento ma è l'aggressione da parte di uno stato terrorista oltretutto e così si vedrà che il teo è assolutamente pari da questo punto nel giudicare oltretutto assolutamente legato a quelli che sono i suoi finti nemici terroristi dall'altra parte perché se qualcuno pensa che quei taluni finti terroristi siano riusciti a scavarsi le fosse avere le armi avere i rifornimenti in tutti questi anni senza che il più importante dei servizi segreti al mondo cioè quello israeliano se si è accorto di niente è veramente un ingenuo cerchiamo di aprire gli occhi e questa non è una guerra ma è un'aggressione e questo e vi ho raccontato oggi come crimine del giorno è uno dei tanti crimini che nella storia questi aggressori hanno perpetrato e se noi continuiamo a guardare le cose a stare fermi a stare zitti e a considerare le cose per quello che non sono continueranno ad avvenire per favore io vi ringrazio vi saluto per oggi con il crimine al giorno 9 aprile ci vediamo domani mi raccomando guardate il promo della nuova trasmissione di cinema che è in uscita settimana prossima il 16 aprile partiamo con la nuova trasmissione di cinema io e alessandro ponziani che si chiama cinepatia su crack apart e ovviamente giovedì andiamo con la nuova puntata della botteguccia dei sigilli in cui parliamo di richard trenton chase un altro dei vampiri umani ci vediamo come al solito domani con un altro crimine al giorno ciao ciao dal teo cracker part